Un bambino su tre è obeso o sovrappeso. Con il lockdown la situazione è peggiorata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di un incremento del 2,6% di obesi tra i 5 e i 9 anni. Alimentarsi in modo corretto fin da piccoli è il presupposto per condurre una vita sana. Da qui l'iniziativa promossa da Comune di Lecco con gli specialisti di Sillab San Nicolò che hanno realizzato un opuscolo rivolto ai più piccoli ma anche ai genitori. Sarà distribuito ai bimbi di prima elementare 500 le copie stampate. L'alimentazione corretta non vuol dire mangiare cose cattive, vuol dire solo capire cosa c'è negli alimenti, quali sono gli alimenti corretti da mangiare nella scacchiere della settimana e distribuirli in maniera corretta. Nell'opuscolo ci sono tutte queste informazioni, ci sono degli esempi di distribuzione degli alimenti, ci sono anche delle ricette che magari può essere una cosa simpatica e curiosa da copiare. Non ultimo per i genitori ci sono anche delle indicazioni su come leggere le etichette presenti sugli alimenti, che non leggiamo mai, cioè leggiamo solo la scadenza sostanzialmente, ma in realtà sulle etichette degli alimenti ci sono tutta una serie di informazioni che è giusto imparare a leggere. Fare scuola vuol dire innanzitutto educare, per cui è fondamentale pensare ad un'educazione per un'alimentazione sana e corretta. Attraverso la distribuzione di questo opuscolo, che verrà fatta nei prossimi giorni in tutte le classi prime delle scuole primarie della nostra città, noi attraverso i bambini in realtà vogliamo raggiungere anche le famiglie, perché è opportuno che insieme a noi e anche le famiglie promuovano la corretta alimentazione. Ricordiamo che l'obesità, la mala alimentazione, il movimento dei più piccoli sono uno dei fattori di rischio più importanti, perché favoriscono l'obesità che porta a tutta una serie di patologie poi in età più grande, quindi poter intervenire sin da piccoli ci consente in futuro di avere meno malati, meno persone che dovranno recarsi dal dottore e speriamo anche nei nostri centri perché staranno meglio.